siamo tornati ad occuparci di una scusatino ma sai mi confondo siamo qui per festeggiare ce l'abbiamo fatta anzi ce l'ha fatta miei cari dopo il settimo green pass alessio signori vorrei giusto così abbiamo iniziato e così abbiamo finito e invece vedi c'è sempre una speranza è davvero finita dopo il settimo green pass con la scadenza 29 settembre lì ti eri proprio ormai demoralizzato proprio era andata era finita e invece stamattina signori stamattina è arrivato l'ottavo ma valido green pass 10 e 45 ora locale flusorario del bangladesh non ve lo diciamo nemmeno perfetto ho aperto l'app io a nuovo messaggio cosa diceva alessio condividilo con noi diceva che sono ufficialmente per un anno coperto col mio green pass dall'ultima vaccinazione l'unica perché tu sei stato positivi una sola dall'undici agosto mi vorrebbe d'abbracciare l'impeto è tanto ragazzi ma siccome non lo possiamo fare abbiamo procurato la nostra bottiglia a lei è brutto perché comunque il retrogusto è un pochettino amaro no brutto in quel senso brutto no perché il retrogusto è un marognolo e quindi è brutto non fa niente ormai ormai sta entrato nella grande famiglia del quotidiano italiano il nostro alessio tino vediamo a me la telecamera sbatto alessio no no la sosta sbatto no la sosta lo facciamo normale alessio no no la telecamera è una sei pronto aspetta vieni qua vieni anche tu vieni anche tu ci sei 3 anzi 8 7 6 5 4 3 2 1 auguri tanti auguri alessio tanti auguri ce l'abbiamo fatta eccolo qua bello caldo caldissimo il green pass è arrivato caldo dallo a tino anche tino anche tino brindiamo anche questo mica è freddo eh brindiamo tutti e tre brindiamo tutti e tre all'ottavo e valido green pass di alessio grazie alla burocrazia grazie all'asio ma tremendo ragazzi tremendo ci faccio schifo ragazzi tremendo